Benvenuti nel mondo dell'edilizia moderna, dove l'innovazione incontra la tradizione. Oggi vi presentiamo Supermural Stucco Ultraleggero. Lo stucco pronto in pasta rivoluzionario, che ridefinisce gli standard di efficienza e qualità. Dimenticate la fatica e la frustrazione degli stucchi tradizionali. Supermural Stucco Ultraleggero è progettato per offrirvi un'esperienza di applicazione fluida e senza sforzo. La sua formulazione innovativa, caratterizzata da un'elevata scorrevolezza, permette di stendere lo stucco con estrema facilità, riducendo al minimo lo sforzo e ottimizzando i tempi di lavorazione. I risultati sono impeccabili, finiture superficiali di altissimo livello, con un grado di qualità Q4, che soddisfano anche i professionisti più esigenti. Supermural Stucco Ultraleggero è perfetto anche per la stuccatura di giunti e viti su lastre in cartongesso. Garantisce un risultato eccezionale e duraturo. Ma non è tutto. La vera forza di Supermural Stucco Ultraleggero risiede nella sua esclusiva formula, Long Open Times. Questo significa che lo stucco ha tempi di lavorabilità prolungati, permettendovi di modellare e perfezionare il lavoro senza la fretta che indurisca troppo rapidamente. Avete più tempo per creare finiture di altissima qualità, riducendo al minimo il rischio di errori e imperfezioni. Supermural Stucco Ultraleggero è la scelta ideale per chi cerca efficienza, precisione e risultati eccellenti. Orgogliosi di aver introdotto sul mercato un prodotto che supera gli standard qualitativi del settore, vi invitiamo a scoprire le potenzialità di Supermural Stucco Ultraleggero. Siamo leader indiscussi nella qualità e nella tecnologia, e siamo punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo. Siamo la GDM, passione per l'innovazione, passione per un domani sempre migliore.